Ciao, eccomi qua, vi avevo promesso un video che spiegasse un po' di cose, vi faccio innanzitutto gli auguri di Buon Natale e parlo un po' al volo di queste magliette. Mi hanno detto ma come tu sei un sito non a scopo di lucro, critichi tanto chi fa la pubblicità e poi fai le magliette. E' vero, ci sono siti che dopo un mese già fanno il merchandising, vendono di tutto, io invece non vendo nulla, i banner quei pochi che ho li regalo e ho pensato dopo sette anni, anche perché me le hanno chieste, di provare a fare delle magliette che rappresentassero un po' quello che sono stati questi ultimi due anni come Mr. Helmet. Ovviamente la necessità nasce anche dal fatto che quest'anno, per quest'anno non ho ancora trovato la copertura finanziaria per la stagione prossima e quindi muoversi, seguire il Mondiale Superbike e gli altri eventi a un costo e quindi ho pensato, ipotizzato, di ammortizzarli un po' con un'iniziativa di questo tipo. Invece in realtà alla fine è andata in maniera diversa perché come al solito la mia sindrome da top di gamma mi ha spinto a fare le cose sempre un po' esagerate e quindi andare un po' oltre, insomma invece di prendere una maglietta da 2 euro e stamparci sopra una cosa da 3 euro, come al solito mi sono lasciato un po' prendere, insomma anche aiutato da Elepunk Design che mi ha dato una mano con la realizzazione di queste magliette, ha secondato un po' le mie idee e poi il supporto grafico anche un po' creativo per quanto riguarda gli accessori di Dario Varisco che è un collaboratore recente di Mr. Helmet, quello che fa tutte quelle vignette strane. Alla fine non ho fatto una maglietta, non ne ho fatte due, ne ho fatte ben sette, praticamente tutte diverse che un po' rappresentano quello che scriviamo, che diciamo, quello che a voi mi rispondete, quelle che sono le idee che stanno dietro Mr. Helmet. Le magliette sono fatte in una serie limitata di 300, rilasciate numero 100 alla volta e le prime 100 sono praticamente finite in pochissimi giorni e sono corredate di un packaging interessante, un po' diverso che insomma rappresenta un po' questa creatività abbastanza strana che ha Mr. Helmet da sempre. Ve le faccio vedere al volo, così le vedete anche dal vivo perché finora avete visto solo i render, le avete comprate, avete fatto il pre-order senza vederle. La prima è questa qui, quella con il Mr. Helmet, ha anche una stampa ipotizzo davanti e scusodromo che fanno il giro e sul retro c'è MH, Mr. Helmet, ipotizzo e scusodromo, quindi sette stampe per questa maglia qui, bella grande. Poi c'è la numero 2 che è questa qui, anzi no, la numero 2 è questa qui con il Mr. Helmet gigante che va da una parte a quell'altra, c'è ipotizzo sulla manica, scusodromo sul retro e MH, Mr. Helmet dall'altra parte. La numero 3 è questa qui, vediamo se la trovo, quella con il mezzo Mr. Helmet, simile a quella precedente, con il mettone gigante che fa il giro, verticale ipotizzo e scritta sulla fronte MH, sul fronte MH Mr. Helmet, dietro c'è in arancione scusodromo ed MH, anche questa ha 4, 7 stampe, quindi non è male. Vediamo un po' cosa c'è poi. Questa qui, che è la 4, che è quella con il Mr. Helmet TV gigante che è il logo che vedete sempre su Facebook, il nome del sito Mr. Helmet.com e poi dietro MH, Mr. Helmet, minoranza rumorosa di frustrati. Questa vi è piaciuta molto. Quelle che mi sono piaciute molto sono anche quelle tono su tono, che qui è un po' difficile inquadrare. Sono blu, arancio e nero, hanno, ecco, vedete, forse in controluce si vede la stampa tono su tono lucido, c'è un Mr. Helmet gigante davanti, c'è la scritta sulla schiena, Mr. Helmet.com e poi c'è il Mr. Helmet logo TV sulla manica. Questa qui c'è in versione blu, l'avete appena vista, in versione arancio, sperando di riuscire a farvela vedere, eccola qui, con la stampa sul retro, questa ha tre stampe, la stampa arancio. In realtà questa è abbastanza complicata da fare perché se ne sbagliano tante quando si fanno. Quella più venduta è invece questa qui, vediamo se riesco a farvela vedere, forse così, eccola qui, nera, con sempre la scritta Mr. Helmet Helmet sulla schiena e il logo TV sulla manica. Insieme a queste maglie c'è una curiosa etichetta che è qui, c'è anche una story, l'etichetta è numerata con il numero della maglia da 0, 0, 0, che però non è stata messa in circolazione, a 300, è un'etichetta adesiva che si può staccare, potete staccare l'adesiva Mr. Helmet e in più ha l'offerta di un caffè, con tanti siti che elemosi non hanno caffè, noi abbiamo deciso di offrirne uno, la prima volta che ci vediamo. Insieme, queste magliette vengono inserite, oltre a quell'etichetta, insieme a questo barattolo qui, che è un barattolo in metallo, con ricoperto in PVC, che è pieno di cose strane, scritte buffe, indicazioni curiose, è ovviamente un barattolo numerato, questo è il numero, preso a caso, il numero 3 di 300 e praticamente anche la possibilità attraverso questo QR code di avere, fotografandolo con quei programmi che avete tutti sugli smartphone, una pagina dedicata e segreta solo per quelli che compreranno queste magliette. Questa maglietta, il costo, mi è costata una fortuna, veramente pochissimo in meno dei 25 euro che abbiamo deciso con L.Punk e con quegli amici che ci hanno dato una mano, quelli che abbiamo stampato, che abbiamo fatto un po' di conti, di chiedere per farvi partecipare. Ormai stampata una maglietta così, con tanti dettagli, anche se il costo era alto, non sembrava aver senso chiedere troppi soldi in un periodo in cui ce ne sono così pochi, per cui magari l'idea dell'autosovvenzionamento non è proprio riuscita, però almeno sono riuscito a fare delle cose che mi piacevano per delle persone che mi piacciono, con cui stiamo bene e che magari rappresentano anche le cose che abbiamo sempre detto, abbiamo sempre fatto insieme. Detto questo, questa è la spiegazione delle magliette di Mr. Helmet, probabilmente visto che ho trovato delle persone che mi assecondano, che sono L.Punk e Dario Varisco, continuerò nel fare queste iniziative qui, sperando che vi facciano piacere, non a fini commerciali ma per il gusto veramente di lasciare delle idee, visto che fino ad ora sono sempre stato molto pigro, non ho mai venduto il merchandising che ho fatto, i cappellini li ho fatti, li ho sempre regalati, non li ho venduti, idem per le tazze, ho fatto otto magliette, sette anni fa, due le ho io, cinque le ho consegnate a mano a degli amici. Da questa volta, visto che c'è la collaborazione e il supporto delle persone giuste e anche il pubblico giusto che siete voi un po' più di 300, forse è il caso di ogni tanto lasciarsi andare a qualcosa di questo tipo qui, che sia però una roba che valga la pena. Detto questo, era per spiegare il senso delle magliette, per augurarvi Buon Natale, sperando di non essere stato troppo noioso come quei messaggi dei Presidenti della Repubblica alla nazione. Ciao a tutti.